Perché vedete, il cibo è la comunicazione di un bene, per cui occorre avere una grande passione ed essere disposti a fare dei sacrifici. La cucina è ordine, occorre acquisire una tecnica. E imparare a lavorare lavorando è il metodo ed è per questo che dal 2003 abbiamo aperto un ristorante didattico Saperi e Sapori. Già dal primo anno gli alunni sperimentano una didattica in assetto lavorativo nei diversi settori di sala, bar, cucina, pasticceria e ricevimento. A terzo anno verrà scelta la specializzazione che condurrà il diploma finale. Per poter esercitare le professioni di Chef Pasticcere Barman Sommelier Organizzatore ed eventi Segretario d'albergo Ma non è tutto, sono importantissime le competenze linguistiche che si potranno sviluppare attraverso docenti madrelingua, stagi linguistici e corsi internazionali. Si dovranno studiare ed approfondire diverse discipline per avere una solida base culturale e conoscenze settoriali. In istituto si prevede sempre l'utilizzo della divisa di frequenza. Solo se sei disposto a fare questa fatica, l'istituto Falcone fa per te. Insieme si può diventare grandi Grazie! Grazie! Grazie.